Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Campo di grano in fiamme nelle colline di Monteporzio padre e figlio rischiano le vite per aiutare i pompieri ad arginare le fiamme Paura per i bagnanti a Ponte Sasso di Fano prende fuoco una doccia in spiaggia alimentata a gas Stavolta vinciamo, il centro-destra è unito Il leader della Lega, Matteo Salvini, fa tappa a Fano in vista delle elezioni regionali di settembre Sanità, meno burocrazia e cambiamento, le parole d'ordine del segretario del Carroccio Al via a Fano i centri estivi comunali per 140 bambini da 1 a 6 anni Domenica alla Rocca Malatestiano un evento in ricordo delle vittime Covid La commemorazione in diretta su Fano TV Il giro della Sardegna in bici in meno di un mese e senza soldi L'avventura del fanese Cristian Burzelli racchiusa in un diario di viaggio tra missione e lezioni di vita Dopo il telegiornale torna Primo Cittadino in diretta dagli sui Fano TV Il sindaco di Terre Roveresche Antonio Sebastianetti Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri Un cordiale saluto dalla redazione di Fano TV Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Apriamo con gli incendi che nel fine settimana hanno interessato i campi di grano Nelle vallate di tre comuni a Monteporzio Grazie all'intervento dei vigili del fuoco e al coraggio di una famiglia Tra l'altro molto nota la famiglia Roberti si è riusciti ad evitare il peggio Vediamo il servizio Lì c'era il grano ancora da trebbiare Lì ha incenerito tutto Colline in fiamme nel fine settimana Monteporzio, San Costanzo e Cavallara di Mondavio Ieri dopo le 15 le fiamme si sono sprigionate nel campo di grano di un'azienda Situata in via del Fosso nelle vicinanze della strada provinciale Montecucco Ad andare in fiamme una trentina di ettari tra grano e stoppio Ovvero ciò che rimane dopo la mietitura Il rogo ha avuto origine dalla barra anteriore di una mietitrebbia al lavoro Chi si è accorto dell'incendio? Io mi sono accorto, raccoglievo le balle di paglia qui vicino al paese, a San Giorgio Dopodiché ho visto un gran fumarone e sono venuto qua Perché mio fratello da Lucrezia si è accorto del fuoco Ha detto ma cosa prende fuoco? Perché questa è l'azienda, è la mia qui Allora ha detto prende fuoco la nostra paglia Che ne sai? Dopo sono venuto subito qua E già avevano le trebbie, le avevano portate fuori dal pericolo del fuoco Però vediamo che c'è un camioncino in fondo che ha preso fuoco Sì c'è un camion che stavano trebbiando come ripeto E non è riuscito nessuno a andarlo a prendere Perché il fuoco metteva paura Sul posto i vigili del fuoco di Pesaro, Fano e Senigallia Al lavoro per quattro ore, la polizia locale e i carabinieri È stato necessario anche l'intervento dell'elicottero Che raccoglieva acqua in un laghetto poco distante Ma non so, delle fiamme alte più di 10 metri Ma una roba pazzesca Io non avevo mai visto Come quando prende fuoco un bosco Che le pire vanno su nelle piante E in questo caso sul grano da trebbiare Era una roba pazzesca, mai vista Per fortuna, ci racconta il testimone La famiglia Roberti è subito intervenuta Riuscendo con i mezzi agricoli a circoscrivere il rogo Sono stati fondamentali il sangue freddo E l'abilità di Marco e Francesco Che hanno rischiato la vita Insieme ai pompieri per domare le fiamme Mio figlio non voleva venire perché aveva paura Perché metteva... Io sono andato a vedere con la jeep giù E poi ho capito che bisognava cercare di fare qualcosa Perché nessuno c'era Sono andato giù, ho chiamato mio figlio Ho preso i trattori Con il trattore, lui davanti con il motore a ruota Io dietro con quello cingoli sul carro Mi ha portato giù, sono sceso giù E ho cominciato a arginare delle parti dove erano più sensibili Con la ruspa davanti Arginavo il fuoco Lo spegnevo via Tendo giù con la terra A spegnere con la terra è pericoloso Perché col vento Arrivavano le fiamme addosso al motore Poteva prendere anche fuoco il motore Il tragitto era lungo Perché si parla di 6-700 metri di fuoco Che stava ardendo Ho iniziato dal basso Poi sono arrivato in cima Poi ho chiuso due fossili maniali Per saltare di là, nel campo di là Che nel frattempo ha preso ardere anche di là Nel frattempo dopo arrivate i vigi del fuoco Che poi è arrivato l'elicottero Con loro l'acqua da terra Poi nel frattempo è arrivato il contadino lì vicino E mio figlio col trattore Con l'aratro con tre secce Che sono riusciti io davanti E loro dietro a narginato dappertutto Prima in un posto poi nell'altro È stata comunque tanta la paura La paura era sì Perché il fumo addosso Non vedevi niente Il vento che spingeva il fuoco Poi è un rischio con i trattori Si sa, nel trattore c'è gasolio C'è olio Possono perdere Ho avuto due o tre volte anche un po' di paura Perché sono arrivato Non vedevo niente Sono arrivato anche sopra il fuoco Era questione di un'ora Bruciava tutto Neanche un'ora Perché stava andando Spingeva il vento È una cosa impressionante E i vigili del fuoco Sono intervenuti questa mattina Intorno alle 10.30 Nella spiaggia dell'hotel Caravelle di Ponte Sasso Affano per spegnere le fiamme divampate Da una doccia calda A dare l'allarme Sono stati i bagnini che all'improvviso Hanno visto uscire le fiamme Dalla canna fumaria della doccia Alimentata da una bombola a gas Per motivi di sicurezza L'area è stata subito Transennata dai gestori In attesa dell'arrivo Dei vigili del fuoco di Pesaro Sul posto Sono intervenuti anche i carabinieri E la protezione civile Per tenere a debita distanza Una sessantina di persone L'intervento si è concluso In un'ora Senza feriti A distanza di un anno Il leader della Lega Matteo Salvini È tornato a Fano In visita Delle prossime elezioni regionali Il segretario del Carroccio È convinto Che il centrodestra Tornerà al governo Nelle Marche Dopo 50 anni Una regione più concreta Più efficiente Più veloce Se devo fare una scommessa Si vince come centrodestra Che è unito Grazie alla Lega E la Lega sarà abbondantemente Primo partito nelle Marche Stavolta vinciamo Perché il centrodestra È unito Ne è convinto Il leader della Lega Matteo Salvini Che sabato scorso Ha fatto tappa Villa Piccinetti a Fano Dove lo attendevano Decine di iscritti E simpatizzanti Il capitano È tornato nelle Marche In vista delle prossime Elezioni regionali Che vedono Francesco Acquaroli Di Fratelli d'Italia Come candidato governatore Aver ritrovato Il giusto equilibrio Con gli alleati È stato individuato Acquaroli È l'uomo giusto Secondo lei? È la squadra giusta Abbiamo incontrato In queste ore Artigiani Agricoltori Medici Imprenditori Insegnanti C'è un'enorme voglia Di cambiamento Negli ultimi anni Le Marche si sono fermate Da realtà produttiva Eccellente Realtà industriale Artigianale Turistica Eccellente Ahimè ha perso posizioni La sanità Non è messa bene Le infrastrutture La qualità delle autostrade Lasciamo perdere Quindi non vedo l'ora Che arrivi settembre Perché Il buon governo Della Lega Là dove governiamo Si vede In concreto Il fatto che la sinistra Non ricandidi Neanche il governatore uscente Mi sembra già una missione Di errore E di sconfitta Stiamo lavorando Faremo liste forti Vogliamo coinvolgere tutti Soprattutto le realtà produttive E poi da settembre Si lavora Parliamo proprio di sanità Perché tante critiche Sono state rivolte A questa gestione Da parte del centro-sinistra Con la chiusura Anche di diversi piccoli ospedali Qual è il progetto Della Lega Riaprire Le troppe chiusure Fino a qualche anno fa Gli ospedali delle Marche Erano attrattivi Per cittadini Di altre regioni Che venivano qua A farsi curare Visitare E operare Negli ultimi anni Purtroppo è vero Il contrario Ci sono troppi marchigiani Che a loro spese Devono andare in altre regioni D'Italia Penso alla Lombardia Per farsi curare E operare Su alcuni sondaggi Poi che darebbero in vantaggio Il centro-destra Salvini ha risposto così Secondo voi Le Marche cambieranno colore? Io mi fido sempre poco Dei sondaggi Ma qua trovo Un'enorme voglia di cambiamento Da Sud a Nord Da San Benedetto del Tronto A Macerata A Fano Al centro di Ancona A Pesaro All'interno Terremotato E ahimè ancora dimenticato C'è un'enorme voglia Di normalità Di concretezza Di cambiamento Stamattina poi Sono passato Per la quinta volta All'Hotel House Negli ultimi anni Devo dire Che abbiamo ripulito Almeno la metà Della delinquenza Che c'era lì E dimostrazione Del fatto che volere è potere Non solo Abusivismo E sanità Ma anche infrastrutture Meno burocrazia E cambiamento Sono queste le parole D'ordine citate Dal leader del Carroccio Che ha elencato Le priorità Del futuro governo Della regione Che scaturirà Dalle elezioni previste Per il mese di settembre Salvini Non dimentica Anche la popolazione Colpita dal sisma Dove la ricostruzione A distanza di anni È ancora ferma Proprio la gente Terremotata Che cosa vuole dire Qual è il suo messaggio Ma chiedono Meno burocrazia regionale Anche gli amministratori locali I sindaci I soldi Devono arrivare adesso Non possiamo aspettare I soldi dell'Europa I commissari I subcommissari Quindi Concretezza Laddove governa La Lega dimostra concretezza Concretezza anche sui collegamenti Appunto Visto che ci sono Delle grandi difficoltà Sì è chiaro Che se a livello centrale Il governo Non ha ancora deciso Cosa fare con autostrade Ci sono cantieri fermi In tutta Italia Quindi l'appello A piedi e Cinque Stelle Che la smettano Di litigare su tutto E almeno sulle autostrade Italiane e marchigiane Scelgano che cosa fare Un messaggio ai cittadini Crederci Un messaggio al ministro Azzolina Dimettiti Al termine dell'incontro Con la stampa Salvini ha mangiato Vongo le cozze del territorio Poi si è dedicato ai selfie Con i simpatizzanti Prima del pranzo All'interno della struttura Oltre ai parlamentari Ai vertici locali Ai consiglieri regionali E comunali della Lega Era presente una delegazione Della polizia penitenziaria Del carcere di Pesaro Salvini si è intrattenuto Anche con i rappresentanti Della pesca Nautica Agricoltura E industria Per il quattordicesimo Giorno consecutivo Nelle Marche Non ci sono stati Decessi Legati al coronavirus Nell'ultima giornata Non si registrano Neanche casi di positività È rimasto invariato Dunque il quadro Dei ricoveri In tutto sono nove Di cui uno solo In terapia semi-intensiva E otto in reparti Non intensivi Intanto il Gores Far sapere che il trend Dei guariti È in aumento Più 46 rispetto a ieri Mentre è in calo Il numero di positivi In isolamento domiciliare E domenica prossima Alla Rocca Malatestiana Di Fano Si terrà un evento In ricordo Delle vittime Decedute A causa Del covid Per l'occasione L'evento sarà trasmesso Anche in diretta Qui su Fano TV Domenica 5 luglio Alle ore 21 Si terrà Alla Rocca Malatestiana Un momento commemorativo Di vicinanza Alle famiglie Per ricordare Tutte le vittime Decedute A causa Della pandemia Da covid-19 Un evento Di raccoglimento Di preghiera Di condivisione Che vuole essere Anche un momento Leggero e profondo Durante la serata Verrà dato spazio Anche alle testimonianze Delle famiglie Che hanno avuto Un lutto L'organizzazione Invita tutte le famiglie Della città A partecipare All'iniziativa Sarà una serata Che si alternerà Tra ascolto Letterario Poetico Ci sono dei canti C'è il Fano Gospel Choir Che intervallerà Gli interventi Ci saranno dei gesti Saranno le campane Alle nove A dare il via Alla memoria Che vorremmo fare Dei nostri cari E durante il momento Ci saranno anche dei gesti Fatti di un'accensione Di luce Nella notte Proprio perché Credo che questa memoria Che dobbiamo Fare insieme Sia anche però Capace di riaccendere La speranza In tutti noi Che continuiamo a vivere Qui a Fano E nelle nostre città Sarà laica E religiosa Come è importante dire Sarà trasmesso Sarà trasmesso Anche in diretta televisiva Nelle sue articolazioni La nostra città Ancora città Ancora cronaca Un altro incidente Un altro incidente La polizia Tutte le esigenze Avverrà nel rispetto Trottola Tariffa Della situazione Ricorda che sei tu Settembre 2018 Il giro dell'isola italiana In sella Le due ruote 1130 chilometri In 24 giorni E senza soldi Sì ho perduto La scoperta di mia mamma Che le ho fatto una promessa Fargli vedere il mondo Con i miei occhi E siccome Le volevo far vedere Girando in bicicletta Non prendendo gli aerei Se no Non vedeva niente Tutto quello che c'era sotto Ho fatto dei test E questi test Li ho fatti in Italia Il primo era in Sardegna E il secondo L'ho fatto in Sicilia Un bellissimo viaggio Senza soldi Proprio per mettermi in sfida Per dimostrare al mondo Tante cose Per dimostrare al mondo Che si può essere felici Senza soldi Per dimostrare al mondo Che ancora c'è gente generosa Volenterosa Che vuole aiutare il prossimo Invece tutti pensano Che nel 2020 Nessuno pensa più agli altri Invece questa cosa qua Voglio dimostrare Che non è vero Come ha fatto? Ha incontrato tante persone Che l'hanno aiutata Che l'hanno supportata? Sì ho incontrato Tantissime persone Che mi hanno aiutato Mi capitava che andavo Nelle piazze La gente era incuriosita Dalla bicicletta Perché poi alla fine La famosa è lei Non sono io Mi si avvicinavano Possiamo fare una fotografica Ma cosa stai facendo? E da lì le raccontavo Che facevo questa missione La gente mi diceva Dai vieni che ti offro il pranzo Dai vieni che ti offro la cena E mi capitava anche gente Che mi ha detto Dai ma stasera Vieni a dormire a casa mia Le sue avventure Sono racchiuse Nel diario di viaggio Arricchito da foto e post-it Con suggerimenti e lezioni di vita Cristian racconta Le 24 tappe della sfida Ma anche le riflessioni Che ne sono scaturite E che contribuiscono Alla crescita personale Di chi lo legge L'intero ricavato delle vendite Sarà devoluto in beneficenza All'associazione Maruzza Che sostiene le cure Pagliative pediatriche Una scelta Che andrà così A realizzare la promessa Fatta da Cristian Alla madre Ornella In fin di vita Quella di portare nel mondo I suoi insegnamenti Sorridere sempre Anche se va tutto storto Rispettare gli altri E aiutare il prossimo E' un'esperienza Che ti cambia dentro Perché apprezzi Tantissimo di più Le cose Cioè Quando io spendo un euro Per me un euro vale un milione Quindi chiaramente Quando vado a spendere dei soldi Li do un valore diverso Che magari per un'altra persona E ci sto molto più attento Anche quando faccio la doccia a casa Diamo tutto per scontato Anche se questa pandemia Ci ha fatto capire Che tutto di contatto Non esiste Però io questo L'ho vissuto due anni fa Quanto per la prima volta Ho fatto la doccia Dopo dieci giorni E quindi ringraziavo l'acqua Che cascava dalla doccia E io davo per scontato Che la doccia È una cosa normale Perché tutti viviamo a casa E abbiamo l'acqua Abbiamo il pane per mangiare E questa cosa in realtà Non è scontata Il libro verrà presentato domani Martedì 30 giugno Alle 20 e 30 Al bastione Sangallo di Fano All'incontro in cui sarà presente Il sindaco Massimo Seri Verranno proiettate anche alcune foto del viaggio Per quest'anno invece salta tutto Per quest'anno sembrerebbe di no Ancora qualcosa di confermato Tante cose sono saltate Ma dovrei partire il 31 luglio Per andare in Georgia e Armenia E lì non sarò da solo Mi sono aggregato io Questa volta a un gruppo di ragazzi speciali E invece partirò da solo Il 3 settembre Oggi al volo per il Madagascar Sarà 3 mesi di Madagascar Di cui farò anche un mese di volontariato Per aiutare i bambini della strada E adesso apriamo l'album Della grande famiglia di Fano TV Per festeggiare due anniversari di matrimonio Intanto cominciamo da una coppia famosa Alba e Giuseppe Ottaviani di Sant'Ippolito Che ieri hanno festeggiato 60 anni di matrimonio 200 anni in due Fa notare il figlio Paolo 96 Alba e 104 anni Giuseppe Per gli amici Peppe Il noto campione di atletica Master Che ha conquistato diverse medaglie d'oro Centinaia di messaggi di congratulazioni Arrivate alla coppia Ai quali aggiungiamo naturalmente Anche quelli della nostra redazione Oggi invece Ginetta Sorcinelli e Mauro Basili Festeggiano i 50 anni di matrimonio Dopo una lunga vita trascorsa insieme Sempre circondati dagli affetti dei cari Hanno raggiunto anche l'importante traguardo Delle nozze d'oro Auguri dai familiari e naturalmente anche qui Da tutto lo staff di Fano TV Tra poco invece di nuovo in diretta Per primo cittadino L'ospite di questa sera sarà il sindaco di Terre Roveresche Antonio Sebastianelli E con questo ci salutiamo qui Grazie per averci seguito A tra poco dunque con la diretta Mentre l'informazione torna domani mattina Alle 7 con la resegna stampa Ok giornale Arrivederci Grazie 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 a tutti